Benvenuti cari amici di MobileOS.it, siamo qui con il Wiko Ridge 4G, una giornata super assolata, super estiva, vediamo un po' come si comporta, questo è lo zoom massimo, 6x, torniamo indietro, andiamo su, andiamo giù, vediamo un po' come si comporta sopra e sotto, andiamo a vedere allora di chiudere su qualcosa di più ravvicinato, vorrei vedere anche un pochino la messa a fuoco, ma direi che ci siamo.